ciao a tutti cari amici di calciomercato.com oggi vi voglio parlare di giornali di quotidiani perché io li leggo sempre sul telefonino sono abbonato ma stavolta sono andato in edicola e li ho comprati perché sono due copie da collezione è tutto vero come una storico a titolo proprio della gazzetta dello sport è quello che sto per mostrarvi guardate qua juve il grande freddo anche con la costruzione grafica con il gelo perché il caso la squadra con testa ritiro e allegri e qua sotto i giocatori volevano tornare a casa nel mirino anche la gestione max e la preparazione fisica e delle gare questa è la gazzetta dello sport cairo editore sì lo stesso cairo che è presidente del torino ma questo è un altro discorso il tutto sport invece guardate eccolo qua mister siamo con te e ora mentre sulla gazzetta c'era anche un all'interno che l'alle allegri non aveva parlato con i giocatori qui invece c'è una foto notizia che è la parte più importante diciamo del titolo in prima pagina mister siamo con te allegri che parla con tutti i giocatori radunati ma magari è una foto d'archivio se non è una foto di ieri allora che cosa vi volevo dire sinceramente vi voglio raccontare un episodio che riguarda me e il mio passato di giovane cronista quando lavoravo proprio a tutto sport c'era il milan di arrigo sacchi sì che aveva un periodo di crisi giocava male aveva tanti infortuni non aveva risultati positivi e allora c'erano anche delle polemiche delle ipotesi di spaccatura all'interno dello spogliatoio e ricordo che il direttore di tutto sport mi scrisse fai una mappa di chi sono i giocatori che stanno con l'allenatore quelli contro l'allenatore quelli agnostici o astenuti fate voi il termine più giusto ecco io mi informai un po di telefonate eccetera mesi due che stavano contro l'allenatore tre che stavano con l'allenatore e gli altri 15 perché la rosa era di 20 giocatori tutti astenuti tutti nel mezzo mi chiamò il direttore e disse scusa non possiamo fare poi una pagina con due contro e tre con e tutti gli altri astenuti che roba è fagli schierare un po' di più che sono tutti democristiani e allora ne misi un po' di più nei tre schieramenti il giorno dopo due giorni dopo Berlusconi il Silvio Berlusconi che era un presidente vigorosissimo del Milan è molto presente ogni sabato a Milanello si presentò a Milanello durante la settimana perché aveva ricevuto dai dirigenti evidentemente qualche telefonata un po' allarmata aveva sentito l'allenatore aveva sentito qualche giocatore e aveva letto i giornali perché non era stato l'unico tutto sport a parlare di questa divisione nello spogliatoio del Milan Berlusconi interrogò tutti i giocatori ad uno ad uno e tutto avvenne sotto gli occhi dei cronisti non l'incontro in sé ma tutta questa sequenza di giocatori in attesa nella sala d'attesa che poi andavano a parlare con il presidente e quello più lungo, il colloquio più lungo fu con Marco Van Basten bene, che successe? che alla fine Berlusconi disse ho fatto tutte le mie valutazioni e si va avanti così il Milan non vinse lo scudetto quell'anno, del resto Consacchini ha vinto uno in quattro anni ma vinse la Coppa dei Campioni a fine stagione quindi evidentemente anche quel colloquio fu molto produttivo questo per dirvi che ricostruendo poi col senno di poi la vera spaccatura in squadra tra con e contro non c'era ma non è che poi tutto sport e la gazzetta possono fare un titolo, non c'è nessuna spaccatura perché il titolo deve essere importante, deve essere divisivo però quello che posso aggiungere è che naturalmente bisogna essere credibili e su questo allora io vi dico che sia tutto sport sia la gazzetta dello sport sono sicuramente credibili tra l'altro colleghi che scrivono sono molto professionali, molto bravi, sono ben guidati e ben diretti c'è un piccolo particolare che ovviamente a un giorno dal derby di Torino non sfugge la maggior parte dei tifosi cioè che Cairo è anche presidente del Toro ed è lo stesso presidente del Toro, editore della gazzetta che quando ci fu una cosa avvenuta sotto gli occhi di tutti, ovvero il litigio tra Bagnati e Juric sulla prima pagina della gazzetta non c'era niente, questa qui non ce l'ho in collezione ma me la sono recuperata questa è la prima pagina di quando ci fu il litigio sotto gli occhi di tutti tra Bagnati e Juric però con questo non voglio assolutamente alimentare l'idea, la supposizione, il retroscena, la malignità che comunque Cairo abbia un'ingerenza nei confronti dei suoi giornalisti per fare in qualche modo il gioco del Toro a scapito delle altre società non voglio dirlo anche perché si giudicherà con il tempo alla fine dell'esperienza così alla fine dell'esperienza di Berlusconi presente nel Milan non c'è stato nessun giornalista di Mediaset o il giornale che può aver detto di aver subito l'ingerenza a Berlusconi quando c'è stata la famiglia Agnelli molto presente sulla stampa che quotidiano storico torinese nessuno ha potuto dire che in qualche modo volessero favorire la Juventus e lo stesso lo dico a proposito di Gazzetta anche con i della Valle quando erano editori della Gazzetta la Gazzetta non dava nessun favore o trattamento speciale alla Fiorentina e così è anche adesso e se non la pensate così giudicate voi con i commenti ciao